Ciao ragazzi, rieccoci su FIFA World e oggi vi volevo proporre un altro squad builder di una squadra per iniziare al meglio da 10.000 crediti Il modulo che utilizzeremo è il 4-5-1 In porta abbiamo Morgan DeSantis, Astori e Manolas Terzino destro Maggio e terzino sinistro Eliseu A centrocampo abbiamo il più costoso della squadra, Freddy Guarin pagato 2.000 crediti Sulla fascia destra Salvio e dall'altra parte Brito Pizzi e Juan Fernando Quintero Come unica punta Vincent Abubakar del Porto Questa squadra mi ha veramente stupito, non me l'aspettavo così forte anche perché il prezzo è molto contenuto Tutti i giocatori costano più o meno 1.000 crediti a parte Guarin che abbiamo detto di essere più costoso Io vi lascio con gli highlights dei gol Voi lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per nuovi contenuti di FIFA World Ah si ragazzi ho aperto la pagina di Facebook ufficiale quindi lasciate un like anche lì, trovate tutto in descrizione E noi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.